Faremo di tutto, sono i cittadini che piangono, ci sono imprenditori come dite spesso anche voi che si suicidano perché non riescono a pagare le tasse e mi aumentano l'IVA al 25,5%, mi bocciano un emendamento per aumentare le pensioni, ci sono i pensionati che muoiono di fame con 480 euro come devono vivere i pensionati ancora me lo devono spiegare, loro me lo devono spiegare e quindi non c'è più da stare calmi e tranquilli qua dentro perché abbiamo delle responsabilità.